Ciao a tutti i burloni sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di questa nuova challenge parkour insieme a Martina e Eren Ragazzi l'abbiamo registrato tutta di fila questa mappa ragazzi 100 livelli Solo per questo dovete lasciare un mi piace cerchiamo di arrivare a mille ragazzi per questo video E spero ragazzi che questa serie vi possa piacere Sotto nei commenti provate a dirci un po' più le vincitore per la serie Io vi lascio al video bello Salve a tutti i blazers, nuovi viaggi e burloni Siamo qui con Madame Marci Sono Eren Natale Ciao a tutti, bella ragazza sono Marci Bella a tutti i blazers sono Marci e bella a tutti noiosi sono Marci Ok vabbè le presentazioni le abbiamo fatte insomma Siamo confusi Ok comunque siamo qui in questa mappa che si chiama paradise parkour Ci sono ben 100 livelli Grazie Atterraggio perfetto È una mappa che ha 100 parkour E li dovremo oltrepassare tutti sarà un casino assurdo Lei vincerà sicuro e quindi noi due ce la giocheremo Ci sono delle regole il pvp è attivo quindi ci possiamo picchiare spingerci giù dai salti o aiutarci Dai che marci basta Se vi picchiate mentre io spiego mi sento tipo le maestre all'asilo miglio Ma da noia La bacchetta è viva Ma da noia basta Oh era il Natale mi picchia Che blaze per favore Ho nota di classe subito Allora bambini prendete appunti perché le regole non sono finite Dai tu guardaci da davanti e noi ci mettiamo in shift ad ascoltarti Ok perfetto Allora le altre regole adesso me le devo ricordare Allora ognuno di noi ha tre gettoni che sono tre possibilità di saltare un livello Dato che sono 100 livelli sono difficilissimi Avremo tre scelte ne potremmo saltare i tre Una volta finiti questi gettoni potremmo decidere di saltarne un altro Solo se almeno due di noi tre saranno d'accordo E poi chi perde fa una challenge che sarà una cosa umiliantissima Dilla sta challenge pesante La blind coso che non so La blind fall challenge a casa di Aaron Blaze No non a casa mia Sì sì Beh già Supponi che io perdo Non te perderò io ragazzi Adesso vedete che Attenzione per te che noi Dai andiamo subito dai 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 Inizia così di cattiveria Ok subito a correre Va bene Non mi sembra di facilissimo sono già caduta giù Merda Aia Cazzo picchi Dai Raga io ci sono eh Io sono al quarto Io sono al quarto raga Come sei al quarto Sono caduto Sono caduto Ok uno su cento è fatto Ragazzi ho un'ansia pazzesca che voi da dietro vi ammazziate Eh stiamo arrivando Aiuto Ai amore mi picchia Ma non ti sto picchiando Smentila di dire stupidate Vai via Voglio buttar giù Martina No è arrivata L'ho buttata giù di là No è arrivata Sono primo sono primo Sto scappando tantissimo Vai via Non puoi ma dal basso Ma quanto sei infame Scusa no aspetta Vai 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 Aspettiamo che arriva Mi allevo con te No no andate via Vai via Che con quella testa da che noia Sei troppo inquietante Stai via eh Ti vedessi tu Ok marcia è il momento Fattemi Scappa Ti sto aspettando Eren sono al nether Questa è un alleanza contro di me Guarda No sono caduto al nether aiuto Eren muoviti Arrivo arrivo Aspetta sono agitatissimo No sono caduto Sono caduto È arrivata Mi ha superato Martina Qua dove devo andare Dove si va ai minerali Non si capisce niente Martina mi ha superato Martina E io sono Perché sì ma Non è un team Eren Marchi contro noi Siamo tutti contro tutti Ma c'è una sacra alleanza Che tu non sapevi Sto cazzo No raga Qua non si capisce niente Sei già blocchiato Perfetto Minca raga Ti ho detto quanti livelli abbiamo fatto Per ora Non lo so Ma da che parte si va Boh io sono qui Ho finito anche questo Ok io sono bloccato nel nether Mi aspettate amici Sicuramente no No Marcine anche tu No sto aspettando Martina Per buttarla giù Tranquilla La sacra alleanza è già No sono agitato Non riesco a farlo Piccolo amico Vieni qua Ah ma io sono avantissimo Dove siete voi Di là Marcine Crea un blocco per lei Vai da quella parte Brutta merda Oh Oh Che noia Siamo due Lell Perfavore Wee wee Cosa due Lell Sono Sono oltre La blocco La blocco No Sei un pezzo Ma Io lo so Ma io non so capace A far sto pezzo Aiuto Dai Smettete La faccio Oppure usate un gettone Potete usare un gettone Ma cosa i gettoni Che l'ho finito 20 volte Se non mi potete Ascrivere Marci Ricorda la tecnica Che ti ho insegnato In segreto Bravo Marci Dai Via Scaccia di salto Di là che vuoi stare mezz'ora su una roba banale così Aiutami Martii Sono avanti Oh raga ce l'ho fatta Raga sto arrivando Grandi Grandissimi Metteteci un po' Che questo qua è un po' impegnativo Raga mi son buggato No raga son buggato Stavo moriendo Lel Come sei Mi ero buggato dentro qualcosa Vai che sta arrivando Martina No Marci Ehi Eren Fa paura Zio Pedro Non vuoi fare il tuo fancora E non rompere le bande Eren Zio Pedro Mi aspettai Io gli slime block Li odio Ok Forse abbiamo una speranza allora Che quale Sti slime block Non capisco Ma è un cazzo E io sono andato avanti E io sono andato avanti E io sono andato avanti Vaffa gullo Prosegue Si prosegue Questa corsa No raga il lucky block No Vai Martii Come il lucky block I lucky block Che ti stai dicendo I lucky block Martii Non sto facendo niente Io sono nella lava Non lo so Non lo so Vai 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 E Marci Se ti devi E vabbè Dalle scale Dalle scale Merda le scale No raga Merda le scale Raga non ci riesco Ci ero in davanti Eeeh Guardate la pro del parkour In difficoltà Martii 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 Uno alla volta Per favore Spostati Oh se volete usare il gettone Potete Siete liberissimi Di farlo Se vuoi stare zitto Puoi eh Sei liberissimo Di farlo Oh Chi è terretto OHHHHH 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 Eeeh Ho capito E gira tutto intorno alla stanza Eeeh Ho capito C'è Sì Marci ma Bravo Io ho bypassato gli slime Ma sta cosa la faccio anch'io allora Marci ma sei un genio Lo so Ho bypassato gli slime Ma sei un cazzo di genio Madonna se lo sono Madonna se lo sono Eh ma prima ci sono i gettoni da usare Come si fa Non ci voglio credere Ah ce l'ho fatta Marci ti tocca il gettone mi sa eh Ti tocca il gettonare Marci La cosa dei due terzi succede se abbiamo finito i gettoni Se no non ha senso Rega ci provo l'ultima volta Se non va adesso E' finito Ma Marci ma un po' di tentative ce la fai tra Devi solo centrarlo alla fine Si si tratta solo di centrare la porta Ascolti i tuoi amici Ma non ci arriva Raga Raga vado sempre lì Salto ma non ce l'ha affatto A few moments later Ma non è cheat E' un arricola alla fine Vaffanculo Ho usato il gettone raga Ho usato il gettone Ok Ok Se no qua Ve ne andate Ma perché siete lì? Attenzione Gettone utilizzato Vedete il mio nome Ah io sto tornando indietro Cos'è sta roba? Ma porca troia Perché sto scalino di merda Non riesco a farlo? No vabbè ma sta cosa è impossibile No raga mi sa che qua La challenge tocca a me Mi sa che qua la challenge Guarda che non sei tanto lontano da noi Siamo solo alla prima puntata Marci Ma vaffanculo Mamma vaffanculo Ma cosa sta roba? Ma cosa sta roba? Ti scappa un attimo Cioè ma questa cosa è così azione L'ho superato L'ho superato Stoiti Grazie Scusami zia Mamma mia Mamma mia Ce l'hai fatto tu quello delle scaliniere? Sì io sono in un livello Ah lo faccio anche io Quello degli scalini Marci Io te lo farei gettonare subito Secondo me Io ce l'ho fatto No raga Raga io sono scherzissimo Raga ho capito come si fa Che palle queste cose con l'acqua Raga è una cagata No non è una cagata Marci Era un'impresa L'ho fatto subito Era una cagata anomala Bastava mettersi verso il fuori Io guarda ci ho sofferto tantissimo lì Ok vai Ma sto labirinto di ghiaccio com'è? Ma è una cagata Ma sono tornato indietro? Ma no Sì anch'io sono tornato indietro Dove che bisogna andare a destra? Eh dovete salire a sinistra Io sono andata a casa Se vai a casa la trovi a strada No proprio Io vi sto anche dando le questione Ce l'ho fatta Cosa sta cosa? Tanto sono bravo Raga ma sto coso nero? Ma com'è? Eh sì è tutto buono Merda Ok Ok ce l'ho fatto Io ho imparato a fare una tecnica della madonna Che mi permette di fare il salto col busto Vero Marci? Sì 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 Mi fa pure Mi insegnate anche a Marci Non so se a Martina la so Cos'è? Ah quello Ti dai il busto di salto Da fermo Quindi tipo scattare e saltare sul posto E poi il salto dopo lo fai di più Cos'è sta cosa regà? Che basta slime Ma porca ma è troppo distante Dove fai qua? Ok ci ho fatto anche questo Dai cazzo Ok Ok gli slime block qui sono una cagata Però pensi Non faccio Perché vi avvicinate pericolosamente? La smettete di avvicinarvi? Editore Dovete andare via Se mi arrivi qui ti tiro un pugno E mi arrivi qui Ma com'è qua la fai? E vai avanti ancora ti tiro un pugno Come funziona? Ok non riuscivo a capire Marci Martina è qua da me Muoviti Sono arrivato io e Shally raga Guarda che lui è dito di me Ma siete fuori? Come avete fatto a recuperarmi? Preoccupare Ma scusa una cosa Bravo Marci hai capito già il trucco Cosa non puoi ma scusa? Io l'ho fatto così Ma puoi? E lì apposta Ma veramente? E lì apposta scusa Non puoi Ma dai ma Dai che stavo pure a fare il porco Che coglione No Ma se te che è il server Ragazzi guardate Salto Poi risalto Ok ce l'ho fatto Che coglione Eh vabbè insomma Sempre a tenere gli intrighi Cioè non so Siamo mica tutti merda come te Come è? Ma perché non riesco a prendere sto spazio? Ma se vuoi? Ma questo salto è possibile Perché stavo temendo che eri arrivata qua Ma siete tutti qui Le notte mia Perché non faccio sto salto? Cazzo Ma la fine è lì Ma come si fa? Ma che c'è una cosa immaginabile? Devi fare un salto con una super rincorsa Se non sei la mia tecnica segreta suprema Non lo puoi fare Ma sciale Qual è la tua tecnica super segreta? Allora devi premere Tieni premuto control Ma va Marci non la far Vai avanti E poi salti ancora C'è il boost di salto Capito? Sì guarda Ci ho messo vent'anni Per capire come si facesse Sì Marci ci ha messo un bel po' A impararla Io l'ho imparata a caso Tipo Ma no Ma io non uso control Te l'ha fatta? Ma io non uso control Ok se arrivi qui ti butto giù No Ecco è butto da sola Ma che ho faiato quel salto Coglione Comunque mettiamo la regola Nuova Che ti cadi all'indietro Puoi tornare No No È possibile È possibile questo salto No è Era in blaze La blocco io La blocco io Ma perché non riesco a fare quel salto? Dai Marci Dai Marci Oh Devi fare slime block E vieni dove sono io Vieni Sì 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 Ti faccio di merda Come ho fatto fatto? Ciao Perché siete così infani? È l'alleanza contro la più forte No ragazzi come hai fatto? E da qui dove si va? Qua Mi tiri un pugno Marci Io ti ho aspettato Tirami un pugno quando salto Vai Va bene Vai Grandissimo No dai No ragazzi ma non vale un cazzo Siete delle merde No ora tocca a me che lo fai Scusa Ok va bene Vediamo Questo salto è impossibile Va Eren vai Dai salto un pochino prima Così vai Vai Sì Ok E mo che cazzo devo fare? E adesso non so dove devi andare Però io non so come farlo Questo è impossibile Ok E sono qua Ok No 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 Eren È facilissimo Allora aspetta Aspetta che mi è caduta la cuffia Aspetta che mi è caduta la cuffia Te lo spiego Aspetta che Sto aspettando Ok no Non ce la fa Martina Se no la buttavo giù Aspetta io intanto vado da sta parte Mi ne vado Siete delle merde No mi rifiuto di giocare con voi così Ok Ok Allora aspetta che mi è caduta la cuffia Allora aspetta che mi è caduta la cuffia